a valparia in occasione della fiera 2022 una presenza importante quella di vigili del fuoco che oggi domenica 11 settembre hanno dato vita a grisolandia siamo con luca sangso è che capo di staccamento di vigili fuoco di cornea con te appunto un commento su questa giornata così importante soprattutto perché avvicina le nuove generazioni i bambini a questo ruolo a questa figura che così importante nella vita di tutti i giorni se oggi siamo qua a valperga facendo grisolandia con l'occasione ci sono stati al mattino molti molti ragazzi e bambini e nell'occasione voglio anche ringraziare la proloco e il sindaco di valperga e ringrazio anche i colleghi di castellamonte gli aibi di prascorsano e di canischio è bello appunto portare i piccoli a conoscere come diciamo prima un ruolo importante una figura che nei momenti determinanti e difficili che nel quotidiano si registrano è sempre presente vigili fuoco c'è sempre è sempre pronto a mettersi a disposizione di chi ha bisogno si è molto bello perché per i bambini il camion rosso dei vigili del fuoco è molto molto sentito e quindi una bella cosa metterlo conoscenza a loro invece con un valter petrino che il responsabile di staccamento di castellamonte anche con te parliamo di questa giornata importante anche proprio per quello che è il valore di eventi come questi che portano la gente a contatto con le vostre figure assolutamente sì oltre oltre essere una giornata di divertimento per i bambini perché con un percorso a tema facciamo in modo di divertirli ad avvicinarli a quello che è il mondo dei vigili del fuoco è anche una giornata di sensibilizzazione per tutti coloro i quali non sanno che oltre alla componente permanente del corpo nazionale esiste anche una componente volontaria questa è anche la dimostrazione che ci sono persone che come giustamente sottolineavi con la loro presenza con il loro volontariato fanno del bene aiutano e sono sempre a disposizione del territorio un territorio ampio e che in questo soprattutto quest'estate molto particolare dove c'è stata siccità un caldo molto forte effettivamente vi ha visti costantemente impegnati assolutamente sì purtroppo quest'estate ci sono stati molti gli interventi per incendi boschivi dovuti alla siccità del periodo speriamo che al più presto questa questo periodo di siccità venga a finire quindi si intranquillizzi un po' la situazione e diciamo che occasioni come questa Grisulandia è l'opportunità anche diciamo così di fare un po' di proselitismo nel senso di la speranza che questi giovani questi bimbi di tutte le età che si avvicinano a questa giornata chissà un giorno non diventino vostri colleghi diventino vigili del fuoco perché no se avranno la buona volontà di partecipare a questo mondo sicuramente sarà per loro un momento di gioia e di cultura perché comunque impareranno molte cose nuove che magari al momento vedono solo in cartone animati o telefilm in tv con alessandro boldini vice comandante di staccamento dell'aib area 32 anche voi oggi presenti a questa giornata importante crisulandi a valperghe in occasione della fiera la numero 164 appunto quanto è bello e importante essere qua e incontrare i giovani e spiegare quanto sia il vostro ruolo determinante nella vita di tutti i giorni soprattutto quando ci sono delle difficoltà ma noi innanzitutto dobbiamo ringraziare i vigili del fuoco per averci invitati a partecipare a questa a questa giornata sicuramente aumenta anche la sinergia tra vigili del fuoco e ai bì l'antincendio boschivi che spesso si trovano su situazioni di incendio a dover collaborare questo è un ottimo modo per avvicinare i bambini per avvicinare anche le persone al mondo dell'antincendio boschivo che negli ultimi anni ha preso un po più piede mentre prima era un po in sordina un po più nascosto ora siamo una realtà e siamo sul territorio tutti possono vederci operare quando ci sono gli incendi e avvicinare i bambini al mondo del volontariato è una cosa sicuramente molto importante perché ultimamente le forze vengono a mancare il ricambio generazionale è sicuramente una cosa che va curata perché poi domani ci sarà sempre bisogno di qualche ibi nuovo ecco infatti questa è l'occasione come dicevamo prima anche con i vostri colleghi vigili del fuoco il fatto che ci possa essere l'opportunità per qualcuno di avvicinarsi a questo mondo e tra qualche anno essere diventare vostro collega sicuramente noi negli ultimi anni abbiamo acquistato molti nuovi volontari proprio grazie a questo tipo di esercitazione chiamiamole così dove i bambini si appassionano possono toccare da vicino qual è il mondo del volontariato semplicemente anche spruzzando solo un po di acqua si divertono crescono insieme a noi e domani siamo sicuri che qualcuno diverrà un ai b grazie a tutti